capitolo 4 ai primi freddi emma lasciò la sua camera per trasferirsi nella sala uno stanzone lungo dal soffitto basso dove sopra il caminetto una fitta madrepora si allargava sullo specchio seduta nella poltrona vicino alla finestra ella guardava passare sul marciapiede la gente del villaggio leon due volte al giorno andava dallo studio al leon d'oro emma lo sentiva arrivare da lontano si protendeva ascoltando e il giovane vestito sempre allo stesso modo e senza voltare la testa passava rapido al di là della tenda ma al crepuscolo quando lei abbandonava sulle ginocchia il ricamo incominciato e restava lì con il mento appoggiato alla mano sinistra spesso l'apparizione di quell'ombra che scivolava all'improvviso la faceva trassalire si alzava e ordinava che apparecchiassero la tavola il signor home arrivava mentre cenavano con la papalina in mano entrava a passi felpati per non disturbare nessuno e ripeteva sempre la stessa frase buonasera a tutta la compagnia poi quando si era accomodato al suo posto vicino alla tavola fra moglie e marito domandava al medico notizie dei suoi ammalati e il medico lo consultava per i possibili onorari in seguito si mettevano a discorrere di quel che riferiva il giornale home a quell'ora lo sapeva quasi a memoria e lo ripeteva integralmente con tutti i commenti dell'articolista e tutte le notizie di catastrofi individuali e collettive accadute in francia o all'estero esaurito l'argomento non tardava a portare il discorso sulle vivande che vedeva a volte si alzava a mezzo per indicare con delicatezza alla signora il pezzo più tenero oppure si rivolgeva alla domestica dandole consigli sulla preparazione di intingoli e sulla digeribilità dei condimenti parlava di aromi di droghe di succhi e di gelatine in maniera tale da lasciare sbalorditi aveva la testa più piena di ricette di quanto la sua farmacia non lo fosse di boccali ed eccelleva nella preparazione di ogni sorta di marmellata aceti e liquori dolci conosceva inoltre tutte le novità in fatto di pignatte economiche l'arte di conservare i formaggi e di sanare i vini malati alle otto veniva justin a chiamarlo per chiudere la farmacia allora homè lo guardava con aria furba soprattutto se era presente anche felicité perché si era accorto che il suo allievo frequentava volentieri la casa del medico il mio giovanotto diceva comincia a mettersi delle idee in capo e io credo che il diavolo mi porti che si sia innamorato della vostra domestica ma il difetto più grave che homè gli rimproverava era quello di ascoltare continuamente le conversazioni la domenica per esempio non erano capaci di farlo uscire dal salone dove la signora homè l'aveva fatto venire per accompagnare a letto i ragazzini che si addormentavano sulle poltrone facendo scivolare giù con la schiena le fodere di calicò troppo larghe le serate in casa del farmacista non erano molto affollate la sua maldicenza le sue opinioni politiche avevano allontanato da lui poco alla volta molte persone rispettabili leon non mancava mai appena sentiva il campanello correva incontro alla signora bovary le prendeva lo scialle e metteva in un canto sotto il banco della farmacia le grosse pantofole di pezza che la portava sopra le scarpe quando nevicava facevano prima qualche partita a 31 poi il signor homè giocava alle carte con emma leon standole alle spalle le dava consigli in piedi le mani appoggiate allo schienale della sedia guardava i denti del pettine affondato nello chignon a ogni movimento che ella faceva per gettare le carte l'abito sulla parte destra si alzava un poco sul collo dai capelli raccolti le scendeva sulle spalle una sfumatura scura che si andava man mano schiarendo perdendosi infine nell'ombra l'abito le ricadeva dai due lati della sedia gonfio e pieno di pieghe fino a terra quando leon per caso si accorgeva di avervi posato sopra la suola di una scarpa la ritirava in fretta come se avesse calpestato qualcosa di vivo terminata la partita a carte lo speziale e il medico giocavano a domino mentre emma cambiando posto si appoggiava con i gomiti sulla tavola e sfogliava l'illustrazione di solito portava il giornale di mode leon le si metteva vicino guardavano insieme le figure e si aspettavano a vicenda in fondo a ogni pagina prima di voltarla spesso emma lo pregava di recitarle qualche verso leone li declamava con una voce strascicata che diveniva diligentemente sospirosa nei punti in cui si parlava d'amore ma il rumore dei pezzi del domino lo disturbava il signor homè era forte al gioco e batteva in pieno charles raggiunti i 300 punti venivano tutte e due a distendersi davanti al camino e non tardavano ad addormentarsi il fuoco moriva sotto la cenere la teiera era vuota leon continuava a leggere emma lo ascoltava facendo girare macchinalmente il paralume di garza della lampada sul quale erano dipinti pagliacci in carrozza e ballerine sulla corda tenute in equilibrio dal bilanciere leon si interrompeva indicando con un gesto l'uditorio addormentato incominciavano allora a parlare a voce bassa e le conversazioni sembravano più dolci perché nessuno le ascoltava venne così a determinarsi fra loro una sorta di associazione uno scambio ininterrotto di libri e di romanzi il signor bovary poco geloso di carattere non ci faceva caso per il suo nomastico ricevette in dono una bella testa per studi di frenologia tutta piena di cifre fino al torace e dipinta di azzurro era una cortesia del giovane impiegato leon gliene usava molte altre gli faceva perfino le commissioni a rouen e dato che un romanzo aveva lanciato la moda delle piante grasse ne acquistava per la signora tenendosele sulle ginocchia durante il viaggio sulla rondine e pungendosi continuamente le dita con i loro aculei emma fece sistemare sulla finestra una fioriera per mettervi sui vasi giapponesi anche leon ebbe il suo giardinetto pensile potevano vedersi da una finestra all'altra mentre si occupavano entrambi delle loro piantine fra le finestre del villaggio venera una occupata ancora più spesso infatti la domenica da mattina a sera e ogni pomeriggio quando il tempo era buono si vedeva all'abbaino di un solaio il profilo magro del signor binet chino sul tornio il cui ronzio monotono si faceva sentire fino al leon d'oro una sera rientrando leon trovò nella sua camera un tappeto di velluto chiaro su cui erano ricamati tralci di foglie in lana chiamo allora la signora homè il signor homè justin i bambini la cuoca ne parlò al suo principale tutti volero vedere questo tappeto ma perché la moglie del medico faceva regali al giovane di studio questo parve strano e tutti finirono per convincersi che emma fosse la sua buona amica leon lo lasciava supporre tanta era la sua insistenza nel parlare del fascino e dello spirito della signora bovary a tal punto che binet una volta gli rispose assai bruscamente che cosa me ne importa dal momento che non faccio parte delle sue amicizie leon si torturava per trovare il modo di dichiararsi e sempre incerto fra il timore di dispiacerle la vergogna di essere tanto pusillanime piangeva di scoraggiamento e di desiderio prendeva decisioni energiche scriveva lettere che poi stracciava fissava termini che immancabilmente finiva con rimandare spesso si metteva in cammino deciso a ogni audacia ma la fermezza dei propositi svaniva subito alla presenza di emma e quando arrivava charles e li invitava a salire con lui sul carrozzino per andare insieme a visitare qualche malato nei dintorni accettava senza esitazioni salutava la signora e se ne andava dopo tutto il marito non era forse qualcosa di lei quanto a emma evitava di domandarsi se lo amasse era convinta che l'amore dovesse arrivare di colpo accompagnato da luci e fragori simile a un uragano celeste che piomba sulla vita la sconvolge travolgendo la volontà come foglie secche e trascina ogni sentimento nell'abisso non sapeva che la pioggia a goccia a goccia crea laghetti sulle terrazze delle case quando le grondaie sono otturate e avrebbe continuato a credersi al sicuro se d'improvviso non avesse scoperto una falla nelle sue difese grazie a tutti